D'Alego, D'Alego, D'Alego sportivo, bravo! Piano piano, aspetti, con il permesso del signor Linares noi abbiamo fatto questa ripresa perché ha avuto un decorso clinico abbastanza faticoso e grave. Sì, sì, io sono entrato morto qua, perché è un po' alasso dei polmoni e poi è venuto anche l'impatto. Grazie a loro, tutta la fragola, tutta la fragola, tutta la fragola, si sono ripreso e sono l'altra volta rinato. Grazie a loro, grazie a tutte le equippe qua. Bravo, bravo ai ragazzi! Ci fa emozionare il signor Linares, se col suo permesso abbiamo fatto questa ripresa. Lui ci ha detto che le avrebbe fatto piacere e l'abbiamo ripresa. Ha avuto veramente un decorso clinico all'inizio sfavorevole, poi a poco a poco si è ripreso perché come ha detto lui ha avuto un infarto, un collasso polmonare e poi è stato in rianimazione anche una sera, un'insufficienza respiratoria gravissima. Però grazie a Dio siamo riusciti, grazie prima al Signore e poi alle cure, sia nostre che della rianimazione, siamo riusciti ad uscire da questo tunnel. Abbiamo avuto diversi decessi, ma di persone che avevano altre comorbidità molto gravi. Però abbiamo avuto tante guarigioni e una di queste guarigioni è proprio questa di questo paziente che ce l'ha fatta. Grazie. Grazie a tutti.